E' stato sottoscritto questa mattina, presso lo studio del notaio Michele Enrico alla presenza dei soci, lo statuto e l'atto costitutivo dell'associazione Movimento Civico Brindisi Virtuosa, cui presidente è Damiano Mevoli, il rogito e a firma del notaio Augusta Massari. La costituzione dell'associazione risponde all'appello di Città Virtuosa in seno alla Fondazione Giuseppe Lazzari di Brindisi, sposando gli ideali espressi per realizzare il futuro migliore per la città, ispirandosi all'umanesimo sociale, cristiano e liberale. Lo faccio volentieri, proprio per arrivare a dare un futuro ai nostri figli, ai nostri nipoti, ma non ai miei personali, a tutti i nostri cittadini, puntando su di loro attraverso i principi elaborati e ormai diffusi dei tre umanesimi, liberale, cattolico, sociale, ma soprattutto attraverso la buona volontà di tutti quanti, la buona volontà dei cittadini perché dobbiamo finalmente mettere in funzione in questa città quel principio che se lo citi ti guardano un po' strano, che si chiama principio di sussidiarietà. La solidarietà dello Stato non esiste più, lo Stato è esattamente una parte della Repubblica, della Repubblica italiana come il Comune, anzi il Comune essendo quello più a diretto contatto con i cittadini, la prima fonte, la fonte primaria di provvedimenti che hanno il valore di legge nel nostro ambito e nelle nostre funzioni. Bene, utilizzando questo principio di sussidiarietà tutti i cittadini devono concorrere perché la città possa finalmente riprendere il suo cammino. Lo stesso notaglio però non è esponente in prima persona ma è mero sponsor del movimento facendo intendere che i soci sono aperti a dialoghi anche con altre forze politiche. Il problema della prassi amministrativa politica è un problema che prenderemo in esame nel momento in cui ci sarà bisogno e saremo chiamati a dare una testimonianza. Tutto naturalmente riservato alla volontà del movimento, alla volontà di coloro i quali ritengono che la lettera aperta che abbiamo fatto alla città, l'appello alla città possa concludersi con un fatto positivo. Quello che io ci tengo a dire è che ognuno di noi è pronto ad assumere figure apicali. Su questo non ci può essere dubbio ma le figure apicali si assumono quando i contesti ci consentono di farlo e soprattutto ci consentono di avere quell'aggregazione di cui abbiamo espresso già i principi nell'appello alla città. Io ricordo di andare a leggersi il www.fondazionelazzatibrindisi.it perché è lì che noi mettiamo tutti i nostri desideri, tutte le nostre azioni e tutte le nostre attività. Poi la domanda che ha fatto la signora che è naturalmente pertinente in altro tempo, in altro tempo, tutto deve essere visto secondo la capacità che noi possiamo avere a convincere la gente. Come dicevo ieri in un'intervista a una televisione locale, se abbiamo la capacità di convincere, di convinzione, esprimiamo un atteggiamento democratico.